Un saluto a tutti Dalla redazione di Rossini TV E benvenuti a questa nuova edizione Delle Vallefoglia e Pian del Bruscolo Magazine Torniamo puntuali Il primo di ottobre qua su Rossini TV Una nuova edizione, un nuovo nome Non solo Vallefoglia ma anche Unione dei Comuni Pian del Bruscolo Per dare spazio e voce sempre di più Al territorio della nostra provincia Come sempre vi ricordo anche Che potete inviarci le vostre segnalazioni In sovraimpressione La mail che resta sempre la stessa Della passata stagione Vallefoglia, chioccelarossinitv.it Ed il numero di whatsapp Che anche quello è rimasto sempre invariato 320 15 32 9 12 Ma iniziamo subito con la prima notizia Perché è stato ritrovato in questi giorni Nella zona di Montecchio In via Belvedere Un bunker di origini tedesche E risalente alla seconda guerra mondiale Una scoperta portata a termine Dalle fotografo Bruno Livi E dalla presidente Dalla NCR di Montellabate Antonella Terenzi E che in questi giorni Ha avuto seguito con l'arrivo Degli speleologi Sulle poste per maggiori accertamenti Vediamo il servizio Si tratta sicuramente Probabilmente di un bunker Della seconda guerra mondiale Che è stato riadattato successivamente A Cisterna Infatti ci sono ancora dei tubi Tutti abbastanza arrugginiti E le murature Tutti gli ingressi Sono stati murati Proprio per creare Un ambiente idoneo Alla raccolta dell'acqua Ci sono in particolare Da noi siamo entrati Da un'apertura Molto piccola Di 80 x 40 cm E quella era una porta Quando era di bitobunger Quindi si entrava tranquillamente In piedi E' stata murata Per creare un ambiente Di raccolta dell'acqua Poi dalla parte opposta Dell'ingresso C'è un'altra muratura E questa muratura Sempre recente Con dei forati Probabilmente era il punto Da cui i militari Sparavano A difesa del territorio Invece l'interno Come è composto Da cosa è formato Allora C'è un corridoio di accesso Con due accessi Di cui uno è sotto la strada Quindi è completamente interrato E l'altro è parzialmente libero E sempre due accessi Avevano perché avevano La possibilità comunque Di fuggire da una parte O dall'altra Anche in caso di attacco Con i gas E là invece La stanza Dove probabilmente C'erano le munizioni Ricover Ci sono le sedute E' un ambiente unico A volte a botte Il 2 di giugno Qui al cimitero Di Montecchio Degli inglesi Polacchi E un signore Mi ha detto Che in questa linea Qui c'era un bunker Allora Incuriosito Mi sono recato In questa casa qui E ho chiesto Spiegazione E ho detto Sì sì In questa vallata Qui In mezzo a due noci Insomma Dovrebbe esserci Questo bunker Con il cancello in ferro E mi ha detto Che questo bunker Viene fino sotto la strada Dopo il 2 Dell'8 di settembre Che era il giorno Dedicato alla Madonna E ho detto Io sono un po' Un credente E ho detto Questa qui mi aiuta Sono venuto Alla mattina presto E sono venuto su Qui Con la roncola Tagliato degli spini Dopo un'oretta Di duro lavoro L'ho scoperto Insomma Ho telefonato All'Antonella Anche lei Lei è andata anche dentro Addirittura E abbiamo festeggiato Insomma Una gioia Immensa Insomma È stata una cosa Bellissima Aver ritrovato Un bunker Così Perché gli altri Sono tutti più Più malandrati Dove ci hanno fatto Un deposito Dove ci hanno fatto Una cisterna Questo qui Sembra Sembra intatto Insomma Sembra rimasto originale E allora ci ha fatto Un immenso piacere Adesso vediamo un po' Come valorizzarlo Come andare avanti Insomma Vediamo un po' Adesso È come assaporare Il tempo Passato Quello che Quello che hanno vissuto Chi stava lì dentro E quindi ringrazio Veramente tutti Perché per me È stata una riscoperta Grandissima E tutte le persone Che hanno fatto Tutto questo Per me Hanno compiuto Un bellissimo miracolo Riportare La storia Oggi qua A rivivere Quei momenti E per la situazione Combattenti Reduci Che rappresento Una cosa splendida E negli ultimi giorni È rimbalzata Nuovamente La notizia Che riguarda La costruzione Di una tratta ferroviaria Che collegherebbe Urbino Montecchio E Pesaro Il sindaco Di Vallefoglia Palmiro Chielli Ha recentemente inviato Una lettera All'assessore regionale Francesco Baldelli E alle ministro Giovannini Chiedendo chiarezza Sullo studio di fattibilità Dell'infrastruttura Sentiamo l'intervista Che il sindaco Ha rilasciato ai nostri microfoni Io sono abituato a stare Sul pezzo A incalzare continuamente Costantemente Le istituzioni Che hanno delle responsabilità È il ministro Per le infrastrutture E quindi anche Per le ferrovie C'è questo studio Di fattibilità Abbiamo chiesto Di allargarlo Alla vallata del Foglia Che è una vallata Insieme a quella Del metauro Che detiene Un buon 80% Dell'economia Della provincia Di Pesaro Urbino E se lo studio Di fattibilità Allargato Alla valle del Foglia Cioè Pesaro Fano Forseombrono Urbino Montecchio Pesaro Ha una valenza Economica Perché Secondo me Può avere Una valenza economica E perché no Non passare Alla realizzazione Di un tratto ferroviario Tipo metropolitana Di superficie Leggera Che fa il trasporto Dei passeggeri Ma fa anche Il trasporto Delle merci Penso alle scolaresche Penso all'attività Economica e produttiva Così importante Riassumibile In queste due vallate Quindi ci crediamo Ci crediamo molto Vogliamo sapere Che punto è lo studio Che tempi ha E se possiamo Competere Con i finanziamenti Dello Stato nazionale E i finanziamenti europei Già programmati Per i prossimi anni La città di Vallefoglia Come si sa Ha una delle più grandi Vivacità economiche Della provincia Di Pesaro Urbino E del nord delle Marche Ci sono circa 50.000 metri Di capannoni In corso Fra Rivacol Vetrotec Italservice Tutte queste attività Diciamo La fab Aziende Fabbri Che vanno bene Che sono in crescita Che fanno fatturato E per noi E diciamo Un biglietto da visita Molto importante Siamo una città del mondo Oramai Perché sono tante Le nazionalità Che sono Dall'Europa E da altri paesi Anche fuori dall'Europa Che vengono A Vallefoglia Perché si possa Trovare lavoro Crescita Sviluppo Occupazione E benessere Quindi Puntiamo molto Sulla crescita Sulla qualità Dello sviluppo Sulla sostenibilità Non è Un caso Che sosteniamo La mobilità Su ferrovia Perché Riduciamo L'inquinamento Riduciamo La pericolosità Di tante macchine Che vengono utilizzate Per andare a lavorare Ogni persona Utilizza una macchina Perché no Il treno L'autobus Pensiamo che sia Nella logica Della sostenibilità Dello sviluppo europeo E lo scorso weekend È stato un fine settimana All'insegno Della salvaguardia Dell'ambiente Per le città Di Vallefoglia Montellabate E Tavuglia Nello specifico Per l'iniziativa Puliamo il mondo Sono stati coinvolti I ragazzi Delle scuole primarie Secondarie E dei comuni interessati Un progetto Che come ogni anno Lega Ambiente In collaborazione Con le amministrazioni Comunali Organizza Coinvolgendo Gli studi Del territorio E anche in questa occasione È stata ritrovata Un'enorme quantità Di rifiuti Presenti non solo Gli studenti Visto che a partecipare All'iniziativa Oltre ai docenti Delle rispettive classi Hanno preso parte Anche i volontari Della protezione civile Che anche in questa occasione Come in tante altre Si sono prestati Ad aiutare A fare in modo Che la raccolta Venisse svolti In maniera perfetta E continuiamo sempre A parlare di ambiente Perché negli ultimi giorni Ci sono arrivate Diverse segnalazioni Da parte Di alcuni cittadini Di Vallefoglia Lamentandosi Dei numerosi rifiuti Abbandonati Nella zona industriale Di Talacchio I residenti Hanno denunciato La costante inciviltà E non curanza Del suolo pubblico Da parte Di alcuni cittadini A causa di numerosi rifiuti Non gettati Negli appositi bidoni Ma lasciati Incustoditi Sulle terreno Come vecchi divani Sacchetti Dell'immondizia E mobili distrutti Nonostante La presenza Di un cartello Che vieta espressamente Lo scarico Di qualsiasi rifiuto Questa cattiva abitudine È purtroppo Ancora presente E ora Cambiamo argomento E parliamo di scuole Perché dopo Poco più di due settimane Dall'inizio Dell'anno scolastico E con i vari Protocolli ministeriali In vigore Il bilancio Per gli istituti Delle comune Di Vallefoglia È risultato Assolutamente positivo Sull'argomento È intervenuta L'assessore Con delega All'istruzione Vice sindaco Di Vallefoglia Barbara Torcolacci Ritenendosi fin qui Soddisfatta Nella gestione Di questa ripartenza Quest'anno Rispetto All'anno scorso Le cose sono state Molto più semplici Perché comunque C'era un sistema Già rodato Mi riferisco ovviamente Alle normative Alle prescrizioni Covid Lo scorso anno È stato complesso Dalla gestione Della mensa Al trasporto Quest'anno Era un'esperienza Già vissuta E quindi Durante l'estate Ci siamo dedicati A tutta una serie Di interventi Per rendere le scuole Diciamo Più confortevoli Abbiamo Abbiamo rinnovato Delle aree Gioco Per i bambini Abbiamo fatto Delle opere Di manutenzione Ordinaria Riguardanti Appunto L'interno Dei plessi Scolastici Per il resto Ieri è partita Ieri lunedì 27 È partito Anche il servizio Mensa E quindi Diciamo Che al momento La situazione È stabile Anche per quanto Riguarda Problematiche Relative alla Quarantena Non ci sono Confidiamo Quest'anno Nel poter riprendere Una certa Progettualità Concordando Con le scuole Magari anche Delle uscite Didattiche Cosa che L'anno scorso Insomma Non è stato Possibile Realizzare Un inizio Positivo E confidiamo Che anche Grazie alla Campagna Vaccinale Che prosegue Insomma Di non Aver problemi Soprattutto Di non Dover Riattivare La didattica A distanza Con le conseguenze Gravi Che poi Ha Ingenerato Nei ragazzi Ed è stato Ultimato Proprio in Questa settimana L'impianto Di rete Per la banda Ultralarga Con certificato Di collaudo In fratelle Per la città Di Vallefoglia Un intervento Importante Soprattutto Per il Campo Della Comunicazione Che apporterà Un miglioramento Della connessione Alla rete Internet E potrà Rappresentare Una comodità Sia per le attività Commerciali Che per gli studenti Che per motivi Pandemici Spesso sono costretti Ad operare Da casa Un impianto Tecnologico Che sarà Un'opportunità Non solo Per le imprese Del territorio Che quotidianamente Operano Con le diverse Parti Delle mondo Ma anche Per l'accelerazione Della ripresa Economica E produttiva Delle paese Dopo l'emergenza Sanitaria E sempre In questi giorni A Vallefoglia Sono stati Aggiudicati I lavori Relativi All'intervento Di efficientamento Energetico Per il miglioramento Delle condizioni Di sicurezza Di una parte Della pista Ciclabile Che collega Bottega Morciola Nello specifico I lavori Riguardano La realizzazione Dell'illuminazione Pubblica Con una nuova Tecnologia A led Interventi Anche sulla pista Ciclabile Che collega Bottega E Pian del Bruscolo Dove verrà rifatto Il piano Viabile Esistente In quanto Deteriorato Oltre ad Una nuova Illuminazione L'importo Complessivo Dei due lavori Ammonta Poco più Di 170 mila euro E ora Da Vallefoglia Ci spostiamo A Monbaroccio Dove la settimana Scorsa Si è concluso L'incredibile Viaggio Delle sindache Emanuele Petrucci Che Alternando Bici e treno È partito dal santuario Delle Beato Sante Ed è arrivato fino a Farkirchen In Germania Un viaggio della memoria Replicando lo stesso Trasitto Effettuato dall'ufficiale Tedesco Eric Eder Commemorandolo Per essersi opposto Durante la seconda Guerra mondiale Proprio nella città Di Monbaroccio Allo genocidio Degli ebrei Sentiamo il racconto Del sindaco Petrucci Un viaggio ricco di emozioni Non lo nego Perché Quando Sono andato Qualche mese fa Verso febbraio A Milano A raccogliere la pergamena Del Museo dei Giusti Che doveva Essere concesso Alla famiglia Eder A fronte Di quanto fece L'ufficiale Eric Eder Nel 44 Al Beato Sante Raccolsi la pergamena Per conto della famiglia Che non poteva muoversi Vista La crisi Pandemica Non poteva muoversi Dalla Germania A raggiungere Milano Ci andai io Come primo cittadino Di questo Nostro piccolo E meraviglioso comune All'ottenimento Di quella pergamena Mi promisi Che avrei raggiunto La Germania Nello stesso modo In cui l'ufficiale Eder Sciolse il voto Nel 53 Al Beato Sante Infatti Lo stesso ufficiale Nel 1944 Quando fu salvata La sua vita E quella di tutte le persone Che lui salvò Nelle grotte del santuario Decise di fare un voto Al Beato Sante In segno di riconoscimento Per tutto quello Che succedette E successe a quel tempo E quindi nel 53 Tornò in bicicletta Io immagino Una bicicletta pesante In mezzo a tante strade Fatte di brezza E quindi non di asfalto Come ho avuto la fortuna Di affrontare io Raggiungere il Beato Sante Per sciogliere quel voto Che insomma Teneva tanto Quando una promessa Vale più di un contratto Cosa che insomma Abbiamo tanto da Da prendere A fronte di quelli Che erano i valori Di una volta E pertanto Mi sono detto Anch'io devo farlo stesso Devo farlo In nome per conto Delle scuole Visto che stiamo Lavorando per loro Per lasciare Il testimone Della memoria In nome per conto Della famiglia Delle figlie Sarano Di tutto quello Che è la comunità Monbaroccese Che tanto sente Questa cosa E che tanto A cuore Questi percorsi Legati alla memoria Una memoria Che questa volta Abbiamo vissuto Anche posso dire Dal punto di vista Dell'ecosostenibilità E comunque Della mobilità sostenibile Visto che l'abbiamo fatta Su due ruote Percorrendo chilometri Percorrendo emozioni Percorrendo tragitti Bellissimi Che hanno unito La natura All'ecosostenibilità Al valore morale Nonché alla cultura Di tutto quello Che è stato il pregresso E' stato meraviglioso Perché l'accoglienza Dopo tantissimi chilometri Mi creda che Martedì mattina Sono arrivato Verso l'una A Farkirken Ero molto stanco Ero molto profato Obiettivamente Perché non sono Un grande atleta Un grande ciclista Ma insomma Ci tenevo a farlo E l'accoglienza E' stata Meravigliosa Importante Sentitissima Consideriamo che Farkirken Per di più Sorge a 25 km Dalla città natale Di Hitler Che insomma E' lì al confine Io ho sentito In quelle figure Che mi hanno accolto Fra cui Il giudice Della corte Scostitizionale Della Baviera Il sindaco Di Farkirken Uncè tutta La coalizione Che l'accompagna Nel suo mandato Un forte desiderio Di rivalse Di stacco Da quello Che è il timbro Che gli è stato dato Nella seconda guerra mondiale Quindi c'è Una forte voglia Di rivendicare Qualcosa Che non gli appartiene E quindi Staccarsi Da quello Che è stato L'olocausto Staccarsi da quello Che sono stati Il buio Di quel periodo E far vedere Al mondo E far vedere Almeno in quel momento A me Che sono Ben altra cosa E che La solidarietà Il confronto L'indiscriminazione Sono parte Della loro collettività Della loro comunità E questo L'ho percepito In maniera Veramente forte Ed è un bagaglio Che mi sono portato A casa Ancora più importante Rispetto Agli obiettivi Che mi ero posto Inizialmente Ed è stata presentata Questa settimana Presso la tenuta Santi Giacomo e Filippo La nuova Megabox Vallefoglia Che quest'anno Prenderà parte Per la prima volta Nella sua storia Alle campionato Di serie A1 Un campionato Che avrà inizio Il 10 ottobre Con il debutto In trasferta Contro le campioni D'Europa Di Conegliano Sentiamo Ai nostri microfoni Il commento Del presidente Ivano Angeli Del cozzo Buonafede E del sindaco Palmirucchielli Riparte dalla tenuta Santi Giacomo e Filippo La nuova stagione Della Megabox Vallefoglia La prima In A1 La squadra Del presidente Ivano Angeli Debutterà In campionato Il 10 ottobre A Conegliano Un'emozione Sicuramente Grande E poi Quest'anno Ancora di più Perché comunque Essere salite Di categoria A massimo livello Della pallavolo Femminile Abbiamo scelto Urbino Perché forse Nella situazione Di scelta Fra Pietro e Urbino Urbino Era quella Che ci dava Più Caratteristiche Migliori Per fare Il campionato Il nostro obiettivo Primario È quello Della salvezza Speriamo Di raggiungere Il più presto Possibile Magari Se poi Questo avviene Possiamo toglierci Anche qualche Altra soddisfazione Ma comunque L'obiettivo primario È la salvezza Perché Arrivare in A1 E ambire A posizioni Maggiore Non è Auspicabile Per il campionato Sta andando bene La squadra è nuova E quindi Accanto a contenuti Di carattere Atletico E tecnico Stiamo mettendo dentro La conoscenza Delle ragazze Perché è chiaro Che Come ben sapete La pallavolo È uno sport Dove tutto avviene In uno spazio Molto ristretto E la conoscenza Reciproca È fondamentale L'obiettivo È quello Da salvarsi Assolutamente Perché è una società Che è molto È molto cresciuta In pochissimo tempo Quindi Basti pensare Che è il terzo anno Di fila In cui siamo Debuttanti E questo Va anche Dell'incredibile Perché eravamo Debuttanti in B1 Debuttanti in A2 E siamo Debuttanti in A1 Adesso è il momento Di fare le cose Con calma Perché comunque Le prime 6-7 in classifica Hanno obiettivamente Degli obiettivi Che noi in questo momento Non possiamo porci E siamo una matricola Quest'anno Salvarsi sarà Il nostro scudetto La pallavolo È uno sport Che è fatto Per la gente L'anno scorso L'anno scorso Abbiamo sofferto Tanto Per si pensare Che l'anno Della B1 Avevamo veramente Tantissima gente Al palazzetto E ha fatto la differenza L'anno scorso Giocare dentro caso Fuori casa Quasi non aveva Nessun significato Nessuna differenza Beh venga la gente Anche a costo di perdere Qualche partita in più L'augurio È quello Di avere Una squadra Competitiva Importante Che promuove L'attività Diciamo Sportiva Nel mondo femminile Ma anche Promuove Una città Un territorio Delle attività Economiche Che Diciamo Megabox Interpreta Diciamo Fedelmente Un'attività Molto Vivace Molto In crescita Sviluppa Un territorio Che gioca Appunto In serie A E quindi Anche il territorio Gioca in serie A Insieme a Megabox Insieme a questa squadra Che Diciamo Possa Competere Tra Le prime squadre Poi sai Dipende L'evolversi Della situazione Della bravura E anche Delle tifuserie Insomma Ecco Quindi speriamo Una stagione Veramente positiva E concludiamo Ancora Parlando di sport Questa volta Parliamo di calcio locale Iniziando dalle campionato Di eccellenza Dove l'atletico gallo Colbordolo Non è andato oltre Lo 0-0 fuori casa Contro la San Giustese Ottenendo il secondo pareggio In tre partite Per quanto riguarda Il campionato di promozione Anche il K-Sport Montecchio Nelle match casalingo Giocato contro L'Ailario Lorenzini Ha pareggiato per 0-0 Mentre il Levalfoglia Che ospitava La passa tempese Ha ottenuto la seconda Vittoria stagionale Vincendo per 1-0 Grazie alla rete Di Serafini Falsa partenza invece Nelle campionato Di prima categoria Sia per l'atletico Tavuglia Che ha perso in casa Delle Muraglia Per 3-2 Che per l'Osteria Nuova Che è uscita sconfitta Dalle campo Delle Piobico Per 1-0 E con questa ultima notizia Di sport Si conclude Questa prima edizione Delle Vallefoglia I Pian del Bruscolo Magazine Io vi ringrazio Per essere stati con noi Qua su Rossini TV Canale 633 Deligitale Terrestre Vi rinnovo L'appuntamento Venerdì prossimo L'8 di ottobre E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Un buon proseguimento